In primo senso è tutta una parte nostra, poi loro bene o male, forse anche per la poca pressione che abbiamo messo in battuta, ci hanno sempre messo più in difficoltà nella fase di cambio palla e noi mentre abbiamo sofferto. Sì, loro sono sicuramente un'ottima squadra, penso che siamo battiti alla grande noi, siamo riusciti a metterle sotto da subito, poi penso che abbiamo commesso qualche errore di troppo, forse anche di disattenzione contro una squadra così non ce la possiamo permettere. Secondo te alla fine di queste cinque partite che giudizio dai collettivo della squadra? Penso che sono molto contenta perché alla fine ci siamo qualificati per giocare i quarti e penso che sia un'ottima cosa, quindi se tutto va bene mancheranno solo tre partite e vogliamo godercele, quindi la parte più bella penso arrivi adesso. Penso che siano state quattro partite tutte in crescendo, abbiamo fatto vedere molte belle cose, penso che sicuramente si può fare meglio, però si può mettere in campo adesso quando conta più in assoluto di tutte le altre.